Ciao, Saru. Saru, aspetta. Devo parlarti. Che c'è Giuseppe? Ne è perché l'altra sera non ti sei presentato? E' così che tratti la fidanzata tua. Sì, c'ha ragione a non parlare, ma ora non posso. C'ho fretta e devo andare. E dove devi andare? Da Marisella? Giuseppe, sono sulle tracce dell'assassino di Vito. E ora scendi che devo andare. Guardami ridò gli occhi e rispondi. Ti ho visto l'altra sera che ti baciavi con mia sorella. Ti sei innamorato di Marisella. Ma che minchia di mettere in testa, eh? Non successe niente con Marisella. E ora scendi che hai a ciappacchiare. Tu non mi hai parlato con il cuore. Non c'ho tempo di parlarti con il cuore. Battene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti